Ciao a tutti, io sono Mattia Kaufman in Arti, Bibo e Metia e il mio talento è breakdance. Ho scoperto il mio talento guardando inizialmente dei video su YouTube. Mia mamma si è accorta di questa cosa, allora mi ha proposto di andare a frequentare dei corsi e è nato tutto così. Allora per me essere sul palco, su quel palco, è un onore e quello che tengo più a tutto è far passare il messaggio che voglio far passare. Inizialmente facevo ginnastica, dopo aver visto questi video su YouTube e dopo aver frequentato determinati corsi di breakdance ho scoperto che è veramente la mia strada. Ho iniziato poi a fare un po' di hip hop, sono un po' poco sciolto diciamo, però sono sempre più convinto che la breaking è la mia strada. Per me essere qui è una cosa fantastica perché in questa palestra insegno, in questa palestra mi alleno, mi alleno con le persone che ci sono qui, mi alleno da solo. Quindi è un po' come una casa per me e qui c'è una mia seconda famiglia diciamo, quindi è importante per me. Io sì, vengo dal Ticino, vivo nella valle di Blenio, la valle del sole, il paese si chiama Malvaglia. Adesso vivo con la mia ragazza, abito a Corzoneso, però vengo da Malvaglia e a me piace tantissimo la natura, stare a contatto con la natura e come si può ben vedere il Ticino è pieno di natura e questo mi dà tanta energia. La breakdance è una danza, è un'arte abbastanza movimentata, abbastanza potente, quindi diciamo che il rischio di farsi male, tra virgolette, non dico che sia alto, però sia abbastanza probabile e quindi si rischia appunto di farsi male. Mi è capitato, ho dovuto fare un determinato periodo di stop, però essendo fisioterapista mi sono arrangiato. Allora diciamo che il mondo della breaking è molto vasto, ci sono tanti tipi di spettacoli, tanti tipi di traguardi da raggiungere, tanti tipi di manifestazioni, adesso ne cito uno, per esempio il Red Bull BC One, mi piacerebbe arrivare a livelli alti in quel genere. Adesso stiamo parlando di questo Stantland Talent, sono veramente contento di essere arrivato in finale e l'obiettivo oltre a far passare il messaggio è... win!